Aspetta che accendo, almeno fammela accendere, arrivato! Gli ho fatti 18 fino adesso, sei arrivato te! Allora, bravo! Vai e cambia peso, vai! Chi è? Peso qua, peso indietro, subito appena arrivi su e riparti al volo Vieni! Vieni subito! Bravo! Micega! Buono! Il giorno Team Scorpe ha il lavoro, a parte lui! Io ti controvovo il lavoro! Via veloce! Pampi, mi sa che devi usare di là? Buongiorno! Buongiorno! Caccia! Eh no, qua è facile eh! Buongiorno! Vieni! Buongiorno! 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 non chiudere a metà e vai via lungo via 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 basta giulato via oh oh ma che stivali li ha presi sono risolti ha chiamato ha fatto un affare della madonna con quelli lì urcia locca